Senza musica non tostare, un B2CN 250 al portacassi che si metteva quella attenzione della Phoenix con le stazioni si attaccava qua, no? Allora la tecnologia esiste, è importante, io senza lei musica, senza lei la cazzone secondo testo male, io non so stagio e allora si fa un acquisto, si spazzica questo buone Bluetooth e allora lo stottile in mezzo, sei preoccupato, hai paura che c'è l'acqua, ma che l'hanno progettato per lui? Il CN 250 è perfetto, ci si incastra, mi sembro più io un rapper di colore un po' affronzato io mi ne vado al lavoro stamattina, la cazzone è con me, qualunque cazzone è con me la musica è con me, ostentazione positiva, serve a stimolare, sforziamo a non essere volcane bella mette il pop sentiamo si imbidimi, il resto è più non vogliamo diventare i più ricchi del verano, io ne ho il presidente a cavallo, ne ho il presidente vincente ma secondo me, sto male, la musica è importante, è un valore aggiunto, oggi ci sta il sole, ringraziamo Dio basta pioggia perché c'è un sacco di gente in difficoltà, con i problemi, gli hanno sventrato l'attività gli hanno sventrato casa e allora basta pioggia, andiamo a lavorare i problemi sono altri rispetto al traffico, ora c'è gente con problemi, rispetto, secondo me sto male, bella mette c'è l'ingaggio, c'è l'ingaggio, c'è l'ingaggio signora che bella manovra, brillantissima, cazzo ci da il mare mamma mia signora mia, mamma mia, dice anche lui che sempre ne sta nel numero verno, nel futuro del leno è di mare no, vabbè, no, vabbè, il valore è molto, ma anche le cose di valore è molto è una situazione di benessere momentanea e ti senti meglio, e lavori meglio